Cioè ma tu ti rendi conto? Che cosa? Che in questo momento nel mondo ci sono 8 miliardi di persone Eh, non si trova uno che mi viene a stirare i panni? Ma vuoi essere seria per un attimo? Oh, 8 miliardi di persone! Cioè, 8 miliardi? 8 miliardi? Sono tanti! Eh, lo so Cioè, io capisco un miliardo, due, ma 8 miliardi! Io ho 8 miliardi! Eh, ho capito, amore Cioè, è tanto 8 miliardi 8 miliardi Io non so manco come si scrive 8 miliardi Ma quanti zeri c'ha 8 miliardi? Eh, tanti, amore Cioè, io te lo giuro Io usci dormo la notte, 8 miliardi, 8 miliardi! Eh, amore, 8 miliardi, 8 miliardi! Che vuoi far? 8 miliardi, 8 miliardi! 8 miliardi, 8 miliardi! 8 miliardi, 8 miliardi! Teredi conto che siamo 8 miliardi! Oh, ho capito Siamo 8 miliardi Qual è il problema? Qual è il problema? Eh E perché su 8 miliardi T'ho sposato proprio Su 8 miliardi Perché t'ho sposato proprio a te? A te, 8 miliardi Perché proprio io su 8 miliardi? Perché? Perché vieni qua Vieni qua perché ho 8 miliardi di motivi Vieni qua